Amici di Prima Media, ciao! È da un po' di tempo che non ci vediamo, non ci sentiamo. So che nel frattempo le vostre catechiste sono state presenti, vi hanno mandato messaggi, vi hanno mandato riflessioni, si sono fatte presenti con i vostri genitori. Io vi rubo solo qualche minuto perché ci tenevo a far sentire anche la mia voce per salutarvi e per farvi gli auguri in vista di questa settimana che stiamo per vivere, che è la settimana più importante dell'anno per i cristiani, è la settimana santa che poi ci porta alla festa centrale per noi cristiani che è quella della Pasqua. Ed è una settimana santa, è una Pasqua che viviamo in maniera assolutamente strana, assolutamente particolare, assolutamente straordinaria. È da circa un mese e mezzo che non ci vediamo, più o meno ci saremmo visti un po' prima di carnevale, poi avremmo dovuto riprendere il nostro percorso consueto di catechesi, di catechismo e avevamo già, stavamo già, avevamo già in cantiere nuovi argomenti, nuove attività da proporvi ed è stato tutto improvvisamente interrotto, nessuno se l'aspettava, subito magari non abbiamo dato tanto peso a questo problema, a questo virus che si stava diffondendo e poi un po' alla volta ci siamo resi conto tutti che si trattava di qualcosa di particolarmente grave e di particolarmente importante che richiedeva e richiede l'impegno di tutti, ma davvero di tutti e così il grande sacrificio che ci è stato chiesto in questo tempo di stare sempre a casa, di muoversi il meno possibile. Anche io in questo periodo sono sempre in casa, adesso mi sto concedendo un po' di una piccola passeggiata in giardino perché fortunatamente ho la possibilità di poter avere un pezzettino di terra, sto gustando i segni della primavera che riapre, ma immagino anche che magari ci sia qualcuno di voi che invece è in appartamento, non al giardino e deve necessariamente stare dentro. Subito magari avevamo preso un po' alla leggera questa cosa, il fatto di stare a casa da scuola, il fatto che cominciassero a mandarci i compiti attraverso il cellulare, ci pensavamo che fosse una cosa così, quasi uno scherzo di carnevale, invece ci siamo resi conto che davvero qui c'era un problema più grande di noi rispetto al quale eravamo impreparati e perciò abbiamo interrotto il cammino, abbiamo interrotto il percorso. Proviamo a ripercorrerlo per un attimo, passeggiando qua lungo il vigneto mi sono venuti in mente tre spunti tra quelli che abbiamo vissuto insieme quest'anno, ricordo per esempio che all'inizio dell'anno, ma lo ricorderete anche voi, avevamo parlato se fosse opportuno o meno comprarsi un paio di scarpe alla moda, se non fosse meglio prendere un paio di scarpe più economiche, se non fosse meglio investire quei soldi per qualcos'altro. Ripensate adesso a quel tema che abbiamo vissuto, adesso che siamo costretti a stare in casa, adesso che tutti i negozi sono chiusi, adesso che ci viene chiesto di andare a fare la spesa sì o no una volta alla settimana, adesso che magari non lavorando, perché questo è un problema reale, magari voi ragazzi non ve ne rendete conto direttamente, ma è un problema grosso, che non lavorando, perché le fabbriche sono chiuse, cominciano a girare anche meno soldi, per cui ci sono meno soldi anche da spendere e perciò se si hanno soldi bisogna spenderli per le cose essenziali, per esempio per le cose da mangiare, lasciando da parte altre spese che magari erano un po' diciamo dei piccoli grandi capricci. Fino a due mesi fa eravamo abituati davvero a comprare, ogni qualvolta avevamo un desiderio, c'era un negozio pronto a soddisfarci o bastava un click sul cellulare per ordinare qualcosa online. Ecco, pensate adesso com'è cambiata la realtà in così poco, in cui davvero adesso un paio di scarpe alla moda forse ce lo sogniamo in questo periodo. Ma poi pensiamo, abbiamo vissuto anche un altro momento, se non ricordo male, durante il nostro percorso di catechesi, di catechismo, nella prima parte dell'anno. Abbiamo parlato, se ricordate, di quel bambino che è andato in cielo e che però ci diceva il papà che è stato tanto, tanto, tanto amorevolmente seguito dai medici, soprattutto dell'ospedale di Padova. E avevamo in programma, se ricordate bene, ricordatelo, di fare anche una piccola raccolta di danaro da poi donare a questo ospedale, affinché in questo ospedale si potesse comprare un computer per consentire ai bambini lì ricoverati, che non possono andare a scuola, di poter studiare lì. Pensate quanto attuale è adesso questo tema. In questi giorni, in queste settimane, non potete non aver visto alla tv le scene degli ospedali, non potete aver sentito quante persone si sono ammalate, quanti medici, quanti infermieri stanno lavorando in maniera straordinaria per la salute delle persone. Purtroppo quante persone sono andate in cielo, quante persone ci hanno lasciato. E proprio in questi giorni, in queste settimane, vedo che c'è una gara di solidarietà. Tanta gente che dona delle somme di denaro ai nostri ospedali, perché questo è davvero un momento di grande bisogno. E allora pensate quanto attuale era quel tema che avevamo cominciato così a scoprire insieme a Catechismo. Ma non è finito perché poi, se ricordate, all'inizio del 2020, a gennaio, avevamo cominciato a trattare un po' il tema del bullismo. Avevamo visto anche un film. Bullismo nasce dall'idea che a volte, quando diamo per scontato i nostri rapporti di amicizia, a volte offendiamo, a volte umiliamo, a volte non andiamo d'accordo con i nostri amici, perché probabilmente non sappiamo realmente che cos'è l'amicizia e quanto importante sia. E quanto attuale non è questo tema adesso in cui da un mese voi non riuscite fisicamente a vedere i vostri amici. Non potete incontrarli, non potete andare a giocare a pallone con loro. Adesso questa lontananza vi fa sentire quanto è importante volersi bene tra di noi, quanto è importante rispettarci tra amici. E se fossimo andati avanti poi nel percorso di Catechismo avremmo cominciato a parlare un po' anche dell'uso del cellulare. E quanto attuale non è adesso questo tema? Perché mai vi sareste aspettati di dover, come dire, andare a scuola e fare i compiti attraverso il cellulare? Magari adesso cominciate anche un po' a odiarlo, visto che lo dovete avere sempre in mano per la scuola. Vedete, è una cosa stranissima, è una situazione nuova che stiamo vivendo, però ci ho pensato, quei temi che abbiamo vissuto quest'anno a Catechismo, adesso li potreste rivivere, suonano assolutamente attuali, li potete ripensare alla luce di quello che stiamo vivendo adesso, aprile 2020. E se ricordate però facciamo ancora un po' un passo indietro. All'inizio dell'anno eravamo partiti da due segni, io li ho recuperati qui nel mio giardino. Uno è questa montagna di sassi, che se ricordate bene avevamo chiamato Inuksuk. E l'Inuksuk rappresenta un po', come si può dire, una segnaletica sul percorso. Quando un pellegrino camminava a volte c'era il rischio che si perdesse, però se a un certo punto vedeva lungo il percorso questa montagna di sassi, chiamata appunto Inuksuk, capiva che era sulla strada giusta. Quello era il segnale che gli diceva, ok, quello è il tuo punto di riferimento, prosegui per quella strada perché è la strada sicura. E poi abbiamo condiviso anche un altro segno oggi, guardate, ho trovato questo fiore che è simile un po' ad un quadrifoglio, perché ha quattro foglie, eccolo qui, uno, due, tre e quattro. E ci ricorda quello che abbiamo detto tante volte durante quest'anno di Catechismo, e cioè che Gesù, Gesù, può essere presente in ogni momento, in ogni esperienza della nostra vita, anche quella straordinaria che stiamo vivendo adesso. Cosa rappresentano queste quattro foglie? La prima foglia, quando mi succede qualcosa, osservo bene, cerco di capire, rifletto, mi guardo intorno, ascolto, dialogo. Anche in questo tempo è importante ascoltare quello che viene detto ai telegiornali, è importante capire un po' cosa sta avvenendo. Che non ci capiti, come per esempio leggo quando apro qualche social network, di vedere tanta gente che parlava andera, o che continua a polemizzare, o che continua a litigare, o che continua a dire bisogna fare questo, bisogna fare quest'altro. Prima di, come dire, parlare e sparlare, la prima foglia ci insegna che di fronte ai problemi è importante osservarli, analizzarli bene. E poi la seconda foglia. La seconda foglia ci dice che è importante analizzare tutti i pro e i contro. A volte io vorrei dire no, si fa così, no, io voglio, no, in questo momento io voglio uscire lo stesso da casa perché a me va di andare fuori da casa. Quali sono i pro e quali sono i contro? Ti sei mai chiesto se questo tuo atteggiamento ha delle conseguenze per gli altri? Perché ogni azione che noi compiamo ha sempre delle conseguenze e questo mese ce l'ha ricordato tantissimo perché tutti, tutti, ci hanno sempre detto che il nostro atteggiamento di rispetto delle regole, il nostro evitare contatti, il nostro evitare di andare fuori, non va solo a vantaggio nostro, ma a vantaggio di qualsiasi altra persona, anche quella che non conosciamo. Per cui ogni nostra azione, quando noi decidiamo di fare qualcosa, dobbiamo sempre guardare non solo i nostri comodi, ma dobbiamo valutare tutti i pro e i contro della situazione, anche chi potrebbe essere magari danneggiato dal nostro comportamento e non lo sappiamo e non lo sappiamo. E poi la terza foglia, Gesù cosa farebbe al nostro posto? Ecco il criterio essenziale che ci aiuta anche a vivere questo tempo. Sono chiuso in casa, non avrei voglia di far questo, quest'altro, ho litigato con i genitori, ho litigato con i fratelli, ma Gesù al posto mio che cosa farebbe? Gesù che insegnamento mi darebbe, che strada mi indicherebbe? E guardate che Gesù vi indica sempre una strada attraverso la parola buona del Vangelo. Alla fine la quarta foglia, la quarta foglia ci dice che spetta a noi, spetta a noi poi fare delle scelte, spetta a noi decidere e spetta a noi assumerci la responsabilità delle scelte. Il Vangelo ci dà, il Vangelo di Gesù, la vita di Gesù ci dà un bel esempio. Se non sappiamo bene che cosa far, se siamo un po' incerti, meglio sempre affidarci a lui e lui ci dà la soluzione. Poi spetta a noi far tesoro di quella soluzione, di quel suggerimento che Gesù ci dà e portarlo avanti, anche in questo tempo che stiamo vivendo. Il senso dell'INUXUK è proprio questo. Gesù rimane il punto di riferimento, anche adesso che la nostra società, il nostro mondo sta vivendo questo periodo di crisi così grave, crisi perché ragazzi non saremo, non è solo il problema che stiamo chiusi in casa, il problema è che poi ci sono le fabbriche ferme, c'è chi non lavora più e quindi è un problema, ci sono tante persone che stanno male in ospedale. Vedete che se ci guardiamo attorno c'è un mondo più grande attorno, molto più grande attorno a noi e le scelte che facciamo, quello che facciamo, non facciamo, quello che diciamo, non diciamo, ha sempre delle conseguenze positive o no. Ecco, la nostra margherita, il nostro quadrifoglio, le nostre quattro foglie, che tante volte vi abbiamo ricordato all'inizio dell'anno, i quattro punti, no? Osservo la situazione, valuto i pro e i contro, mi chiedo cosa avrebbe fatto Gesù e poi decido. Questo schema lo potete applicare, lo potete applicare anche nelle cose che vi stanno capitando, perciò in qualche modo non è che abbiate smesso di fare catechismo, vi ho citato prima le esperienze che abbiamo fatto durante gli incontri di catechismo quest'anno, vedete quanto attuali erano, le potete continuare a fare tra di voi, in ogni esperienza che vivete ogni giorno in casa adesso, chiedetevi, ogni volta che vi succede un problema, no? Siete tentati di fare una cosa o un'altra. Osservate, ascoltate, cercate di capire, valutate i pro e i contro, poi chiedetevi, ma Gesù che suggerimento mi darebbe? E infine scegliete, sempre, responsabilmente, ogni giorno. Gesù che cosa sta per fare all'inizio di questa settimana santa? Anche Gesù, sapete, non se la passa molto bene. Sapete che Gesù sta per cominciare la settimana santa, viene accolto apparentemente in festa quando entra a Gerusalemme, ma in realtà stanno già pensando di metterlo in prigione, di processarlo e di condannarlo a morte. Per cui sta vivendo la settimana della sua vita più difficile, è in crisi, è in crisi nera, ha paura, sta soffrendo, vede che lo stanno abbandonando anche i suoi amici, vorrebbe scappare, eppure va fino in fondo. Che cos'è che fa in questa settimana? Direi che fa tre cose. La prima è che non smette mai di pregare. Anche quando è in estrema difficoltà, continua a invocare Dio Padre, suo Padre, che sta sulla, e continua a pregarlo perché non smette mai di avere fiducia in Lui. Anche noi in questo tempo dobbiamo avere fiducia in Dio Padre, che non ci abbandona, non ci castiga, non è Lui che ha voluto questa cosa del coronavirus. Lui continua a volerci bene, noi continuiamo a fidarci a Lui, continuiamo ad affidare a Lui anche le persone che in questo momento soffrono e quelle che non sono più tra di noi, quelle persone che stanno lavorando tanto. E poi Gesù in questa settimana fa altre tre cose. Lascia ai discepoli un segno che è quello del pane, che poi noi viviamo ogni domenica, quando torneremo a viverla nell'Eucaristia. L'Eucaristia è segno che Gesù vuole farsi pane, segno che Gesù vuole condividere la sua vita con noi, segno che Gesù vuole alimentarci con il suo stile di vita. E poi il terzo segno, quella stessa sera in cui ai discepoli dà questo consegno, celebrate l'Eucaristia in nome mio anche quando non ci sarò più, compie quel gesto straordinario della lavanda dei piedi, lava e bacia i piedi ai suoi discepoli. Come dire, qualunque cosa succeda, qualunque cosa succeda, io continuo ad amare gli altri, io continuo a mettermi a disposizione degli altri. E perciò, ecco, ricordate queste tre cose, Gesù che prega durante tutta la settimana, anche se ha paura, tanta paura e non sa cosa fare, Gesù che lascia il segno del pane, lo spezza tra i discepoli e dice questo è il segno della mia vita, una vita spezzata per voi, una vita condivisa con voi, una vita vissuta insieme con voi e per voi. Lasciatevi, come dire, mangiatemi quasi che la vostra vita, che io sia nutrimento per la vostra vita. E poi il gesto di lavare i piedi, come dire, io comunque vi lascio un segno e da lì non ce l'ho. E c'è quello che la via dell'amore tra di noi, l'amore reciproco, vicendevole, è una strada che non fallisce mai. Ecco, volevo lasciarvi un po' questi pensieri in ordine sparso sul catechismo, su quello che abbiamo vissuto, su quello che vivremo. Durante la settimana santa non ci vediamo in chiesa, non ci ritroviamo in chiesa. Però il vescovo ha detto che in questo periodo le vostre case stanno diventando delle piccole chiese. Non venite più in chiesa per la messa, come eravamo tutti abituati a fare, ma è la vostra casa, la vostra abitazione, anche quella più piccola, che diventa una piccola chiesa, ha detto il vescovo. In questa settimana, nella prossima settimana, costruitevi un piccolo altarino dove mettete una candela, dove mettete un fiore, dove mettete la Bibbia, dove mettete un segno e cercate di fare un momento di preghiera al giorno assieme ai vostri fratelli, i vostri genitori, i vostri nonni se ce li avete in casa. Vi verrà mandato una piccola traccia che ho preparato con dei suggerimenti di preghiera per ogni giorno della settimana santa. Non preoccupatevi di farla tutta, non è un problema che bisogna fare quello che viene mandato. È importante che viviate bene e con calma ciò che scegliete da quella traccia di preghiera che vi è stata mandata. E poi, quello che è importante, pregate insieme, perché è la prima volta che avete la possibilità di farla. È una cosa bellissima e straordinaria, pregare con i vostri genitori, con i vostri fratelli, con i vostri nonni lì in casa, perché la vostra casa adesso sta diventando una chiesa. Ecco, con questo pensiero io vi lascio, vi auguro una bella, una buona settimana santa a voi e ai vostri genitori. Grazie a tutte le vostre catechiste che comunque in questo periodo vi sono sempre state vicine. Ciao ancora a voi e alle vostre famiglie. Buona settimana santa e buona Pasqua.